Una tassa sugli extraprofitti delle banche, salario minimo, congedo paritario per il lavoro delle donne, più investimenti nella sanità. La priorità non può essere investire nelle armi, ma dare una mano a quelle famiglie in difficoltà oggi col caro Libri o alle imprese, sotto scacco del caro Bollette. Siamo ultimi nel G7 per investimenti nella sanità, mentre i redditi delle famiglie italiane crollano. Il governo si svegli.